Eccoci di nuovo insieme, sono felicissimo stamattina perché nei nostri studi si stanno alternando tante persone meravigliose. Questa volta raddoppiamo perché con l'aiuto della regia di Vito e Giulio potete vedere che gli ospiti che sono di fronte a me adesso sono ben due e sono bardati di tutto punto con la loro divisa da scout. Io saluto Giacinta, ritrovato, e Michele Placentino, capi scout di San Giovanni Rotondo. Buongiorno, ciao. Come va? Tutto bene? Sì, sì, grazie. Dai, siete qui oggi perché come anticipavamo in apertura il 2024 è un anno di grandi anniversari per il Mondo Scout. Del resto nel corso della mattinata noi avremo il piacere di intervistare anche il presidente nazionale della GESCI che ci parlerà appunto di questi anniversari. Con voi invece vogliamo soprattutto soffermarci su quello che successe a San Giovanni Rotondo quando nacque il gruppo scout appunto nella città di San Pio di Pietrelcina perché c'è anche un legame con Padre Pio. Ma facciamo le cose per ordine. Allora, intanto quali sono gli anniversari che si celebrano in questo 2024 in Italia per il Mondo Scout e a San Giovanni in particolare per il vostro gruppo? Nel mondo, in Italia diciamo c'è la route nazionale che ricorre questo anniversario e dobbiamo procurare... Il 50esimo. Sì, il 50esimo. 50 anni. 50 anni, sì, è una festa grande per il Mondo Scout e quindi c'è una route nazionale di tutti i capi che dobbiamo concludere a Verona. e ci hanno dato dei temi da svolgere. Noi sono sette filoni, anzi otto. Sono in parallelo con le otto beatitudini. Il tema è rendere felici principalmente. Quindi noi ci siamo scelti il prenderci cura e custodire. Questo è il nostro tema che abbiamo scelto a San Giovanni Rotondo e che porteremo avanti. Comunque noi ci prendiamo cura innanzitutto e principalmente dei ragazzi che ci sono stati affidati, quindi dell'educazione che impartiamo insomma sullo stile scout a questi ragazzi e questi giovani. Il Mondo Scout in Italia è sotto le insegne dell'Agesci. Però, caro Michele, io so che l'Agesci è già uno step successivo a un'evoluzione del Mondo Scout in Italia. Ecco, raccontaci quali sono state le tappe in generale per estrema sintesi e poi che cosa è successo a San Giovanni Rotondo per quanto riguarda il vostro mondo. Per dovere di cronaca e anche di rispetto a chi ci ha preceduti, lo scoutismo inizia nel Regno Unito nel 2007. Invece in Italia nel 1907. Invece in Italia nel 1910 ad opera di un'associazione laica che c'è nel G.A. Quindi la Gesci, in quanto l'associazione cattolica e non è l'unica, nasce come Asci e poi 50 anni fa con l'Aggi, l'associazione cattolica femminile, si fonde e quindi dà vita alla Gesci. Sono tante le associazioni scout in Italia, la Aiche e non, con diverse sfaccettature caratteristiche. La nostra associazione si caratterizza appunto con il 1974, con la fusione e quindi con la nascita di un documento comunitario che è il patto associativo, che vede questa novità, l'esperienza della coeducazione. Quindi l'associazione maschile e femminile che insieme camminano questa esperienza cominciata tanto tempo prima. Per arrivare a San Giovanni, anche qui per un dovere di rispetto per chi ha messo il seme dello scautismo, in realtà lo scautismo inizia nel 1947, quindi nell'immediato dopoguerra. Ha passato diverse fasi fino all'apertura del nostro gruppo che invece avviene nel 1963, ma concretizza ufficialmente il giorno ufficiale, nel primo maggio del 1964, con quello che si può vedere nelle immagini e quindi le prime promesse. E il legame con Padre Pio come lo potremmo descrivere? Allora, intanto, il gruppo nasce nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, con Don Michele di Gioia. La parrocchia di San Giuseppe Artigiano che vide la posa della prima pietra proprio con Padre Pio. Con Padre Pio. E appunto il primo maggio è il giorno della festa della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Infatti le promesse per una questione legata al brutto tempo, la cerimonia venne fatta all'interno del cantiere della chiesa, perché non era ancora pavimentata. Questo mi è stato riferito dai diretti testimoni, perché noi non c'eravamo. Li vediamo in foto, no? Foto d'epoca, molto bella, in bianco e nero. Qui siamo praticamente in quella che oggi è la piazzetta Baden-Powell, che è quella antistante del salone della parrocchia di San Giuseppe. C'è ancora atto sterrato, non è pavimentata. Qui le promesse sono state già fatte, perché vediamo i ragazzi con i fulari, con i fazzolettoni al collo. Subito dopo, ecco, qui c'è da notare il capo, il professor Elio Risso di Cuneo, figlio spirituale di Padre Pio e insegnante che era qui a San Giovanni. Fu interpellato da Don Michele Di Gioia per seguire questo gruppo di ragazzi, perché in realtà l'iniziativa è stata dei ragazzi, ma c'era bisogno di un capo, di un adulto che li seguisse. E quindi questa cosa ricadde su questo figlio spirituale di Padre Pio, che è la prima cosa che fece dopo la cerimonia delle promesse, portò il gruppo in visita, quindi fu ricevuto da Padre Pio, e ricevette la sua benedizione nell'orto del convento, lì dove c'è quella famosa porticina nelle vicinanze del refettorio vecchio. E quindi da allora, come diceva già Cinta, in qualche maniera ci ritroviamo con il nostro tema scelto per la ruta nazionale, che siamo ancora qui a curare, a custodire questa proposta educativa che facciamo ragazzi, e noi custodiamo la storia, l'esperienza e i luoghi che noi frequentiamo. Molto bene, davvero immagini suggestive, la storia molto interessante. Poi è sempre bello scoprire i legami che Padre Pio, direttamente o indirettamente, ha intessuto su questo territorio. Giacinta, in questa foto vediamo tutti i maschietti, quando le donne, anche se in Giovanni Rotondo, entrano nel mondo scout? Nel 90, appunto perché solo nel 74 c'è stata la fusione, e poi comunque per cultura, prima le donne dovevano stare più in casa, e poi comunque nel 90, finalmente le prime donne sono entrate nel movimento e quindi nel nostro gruppo. C'è qualche, ecco, proprio considerando il fatto che questa parità di genere, lo dicevamo solo qualche istante fa con Sor Maria Vittoria, ce la dobbiamo sempre guadagnare, conquistare, c'è qualche episodio in particolare che ricordi con affetto rispetto alla novità rappresentata dal vostro ingresso nel mondo scout? No, diciamo non la novità. Si faceva, come dire, si lavorava nella quotidianità, nella santa quotidianità. Sì, infatti, niente di particolare, cioè si sono unite le cose, si sono amalgamate molto bene, capito? Senza distinzione più di sesso. Allora ecco, ti faccio una domanda, come dire, più semplice, più diretta. Quando sei entrata tu, sei entrata come scout o come capo scout? No, allora io non ho vissuto il mondo, diciamo, educativo come educanda, ma sono entrata già come capo scout, diciamo, da grande. Infatti ero in 94, insieme ad un'altra amica collega che abbiamo scelto. In un primo momento sono entrata più per, diciamo, aiutare questa amica, per certi versi, che amava questo mondo perché avendo respirato di più l'aria dello scautismo con Michele, perché lavorano insieme, roba varia, quindi quasi per farle piacere. Perché io comunque già stavo nel mondo, diciamo, parrocchiale, sono sempre stata una catechista, roba varia, quindi ho sempre... Quindi sì, sentivo questa esigenza di stare con gli altri, però non eccessivamente. Invece la mia amica sì, quindi... però poi mi sono appassionata e ho visto che è qualcosa di molto più grande della parrocchia. E quindi mi sono fatta prendere da questo fascino e sinceramente, nonostante, diciamo, tante cose mi siano successe nella vita, poi non mi sono più allontanata. La bellezza dell'esperienza, l'importanza di fare esperienza, sicuramente soprattutto nel mondo scout è un'esperienza fattiva, ecco, non solo la preparazione teorica e il catechismo, ma poi anche la traduzione in gesti concreti del rispetto del prossimo, dell'ambiente in cui viviamo, sicuramente temi molto cari al mondo dello scautismo. In conclusione, Michele, tu mi accennavi che effettivamente da un certo punto in poi, e quindi ancora oggi, c'è un capo scout per il gruppo maschile e un capo scout per il gruppo femminile. Anche se i gruppi sono fusi, c'è... l'associazione mantiene questa doppia figura di educatori, dico bene? L'esperienza della coeducazione dà la possibilità ai ragazzi di vivere questo confronto, questa crescita assieme che completa vicevolmente. I capi responsabili sono sempre in coppia, proprio in un fatto speculare se vogliamo, cioè i ragazzi, l'esperienza mista, anche i capi sono presenti nell'ambito di lo sessi. Ma questo a tutti i livelli associativi. E questo è molto bello e non è affatto scontato ancora oggi, come diceva. No, ma infatti è un'esperienza unica in Italia, tra le tantissime associazioni che ci sono, la nostra si caratterizza soprattutto per questa caratteristica del vivere assieme le esperienze. Le altre associazioni hanno comunque, fanno la proposta maschi e femmine, però in un cammino che è parallelo. Molto bene, molto bene. E quindi ho un motivo in più per farvi non solo i complimenti da parte mia, da parte di Padre Pio TV, ma anche gli auguri di buon lavoro per la vostra importante missione e gli auguri per questi anniversari che stanno caratterizzando questo 2024 che è appena partito. Il tempo in TV vola, per cui la nostra chiacchierata per il momento finisce qua, ma saremo felicissimi di tornare ad ospitarvi nel corso dell'anno, perché sicuramente farete tante cose belle, per cui potremo condividerle col pubblico che ci segue da casa. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Viva gli scout, viva la Gesci. Noi restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra poco. A proposito di quell'orto del convento di cui parlava proprio Michele, lo andremo a riscoprire con il nostro guardiano, Frarinaldo Totaro. Grazie a voi.